Andrea Di Lucente, Assessore regionale e Vice Presidente della Giunta, si sta occupando di più dossier in questo periodo. Partiamo dai trasporti, ci sono stati più di un incontro con i vertici di Trenitalia, a che punto sono i lavori per l'elettrificazione e soprattutto c'è un accordo per l'acquisto dei nuovi treni? L'argomento accordo RFI Trenitalia negli ultimi giorni ha avuto più di qualche sviluppo. Per quanto riguarda l'elettrificazione, entro gennaio i treni potranno partire dai Sernia verso Roma, perché è stata completata la tratta e quindi abbiamo raggiunto almeno il primo obiettivo. Per fine 2024, inizi 2025, contano di terminare i lavori fino a Campobasso. In questi giorni stiamo anche definendo con Trenitalia il nuovo contratto, stiamo cercando di abbassare il costo del trasporto, perché incideva tanto sul nostro bilancio. Stiamo cercando di valutare, di tagliare qualche minima corsa inutile, almeno in questa prima parte, visto che giustamente i treni non possono partire da Campobasso, allora prevediamo di sostituire già da subito qualche corsa con gli autobus. Nei prossimi giorni contiamo di concludere l'accordo, che prevederà anche un saldo estralcio delle vecchie pendenze della regione, sicuramente una scontistica, se non la cancellazione totale degli interessi passivi che avevamo maturato. Quindi nei prossimi giorni daremo comunicazione alla stampa, sicuramente attraverso una conferenza stampa. Ecco, negli ultimi giorni lei ha fatto anche una tiratina d'orecchie al sindaco di Sernia Castrataro per un accordo che c'è stato tra Sernia e Roccaraso. Ha ricordato a Castrataro che in Molise c'è una stazione scistica, che è quella di Campitello Matese. Sì, Castrataro poi ha pensato di ricordarmi che l'accordo di Sernia era propedeutico all'accordo fatto da tanti altri comuni, in particolare quelli della mia zona, dell'Alto Molise. Castrataro deve sapere che questi comuni hanno fatto questi accordi negli anni addietro, quando la stazione scistica di Campitello era totalmente ferma, era totalmente chiusa e quindi vedevano un'opportunità per i locali per andare a sciare. Oggi come oggi la stazione di Campitello è attiva, ha delle piste a norma, abbiamo investito tanto in questi anni su quella stazione scistica, quindi è giusto che ognuno di noi faccia la sua parte, la politica deve fare la sua parte, incentivando quello che è il turismo nel nostro territorio e nella nostra regione, perché anche un singolo turista che si allontana dalla nostra regione vuol dire distogliere economia dal nostro territorio. Infine Gigafactory e poi la ZES, proprio ieri lei ricordava che le aziende molisane hanno ancora molto da dire. Sì, ZES di ieri mi annuncio che sono state approvate 50.000 metri quadri di ZES in Molise, importantissima sia nella provincia di Campobasso, in particolare su Termoli, sulla zona industriale, sul consorzio e qualcosa nella provincia di Sernia. Per Gigafactory posso annunciare oggi che ieri sera è stata convocata la conferenza di servizi, quindi andiamo spediti verso l'inizio e la fine degli iter autorizzativi. Stiamo facendo di tutto con il mio assessorato, con la mia struttura, per cercare di dare dei tempi ben precisi sia al comune di Termoli, sia al consorzio industriale, sia ai vari servizi regionali, perché solo in questo modo possiamo essere attrattivi. Tutte le aziende che vengono da me a chiedere di poter investire qui in Molise mi chiedono soltanto di accocciare gli iter autorizzativi, altrimenti è difficile per loro proporre alle loro case materie di venire a investire qui in Molise.